Un piano particolareggiato e ben delineato sul fronte della sicurezza stradale, concertato con tutte le forze dell'ordine e i soggetti interessati, protezione civile, capitaneria di Porto e Anas, coordinato dal prefetto di Pesero e Urbino, si è tenuto nella giornata di lunedì scorso. Un piano molto sentito da tutti i soggetti partecipanti alla riunione, anche alla luce dei più recenti fatti di cronaca. Gli incidenti stradali che si susseguono sulle nostre strade giornalmente con una preoccupante escalation e con esiti spesso nefasti, come nella frazione di Rosciano, con l'ennesimo lenzuolo bianco steso a terra o lungo tutta la Flaminia, diventata ormai una strada di quartiere più che una statale vera e propria, visti i lunghi tratti con caseggiati a fil di carreggiata senza soluzione di continuità e le medie elevate che gli automobilisti tengono in tratti come tra Carrara e Cucurano, impongono una profonda riflessione e azioni concertate da prendere sul fronte della sicurezza. Incremento dei controlli, miglioramento della segnaletica orizzontale e maggior attenzione alle zone ad alta densità di traffico, soprattutto per il periodo estivo. Ci siamo impegnate in un'attività che vedrà anche una progettualità più a lungo termine, ma questa è una vera e propria operazione sicurezza che dobbiamo mettere in campo e che possiamo dire che parte da oggi, ma che dovrà investire risorse nelle politiche di bilancio che andremo da qui a breve a rivedere per operazioni più importanti di lavori stradali più significativi, che possono essere una risposta ai numerosi incidenti stradali che molto spesso sono causati anche dalla velocità. E' appunto questo, il periodo estivo e le zone ad alta concentrazione di mobilità, il tallone d'Achille della nostra avviabilità. E per questo, su suggerimento del prefetto ed indicazioni dell'amministrazione, il corpo di polizia locale è pronto a mettere in campo tutte le risorse possibili, secondo e seguendo le indicazioni del prefetto. Il prefetto ha raccomandato di incrementare i controlli su strada affinché si possa migliorare possibili la sicurezza di tutti i cittadini e tutti coloro che frequentano la città di Fano e Pesaro, le città più deputate al turismo balneare. Per quanto riguarda Fano, ovviamente noi aderiamo a questa richiesta del prefetto e provvederemo a intensificare i controlli su strada, privilegiando la principale viabilità cittadina, le principali strade e in modo particolare la zona mare che notoriamente sono frequentate da un gran numero di turisti e per la spiaggia e per le strutture ricettive che sono la stragrande maggioranza proprio nel lungomare.